ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su witech io sono come al solito udini e oggi continuiamo a parlare di configurazioni computer dopo gli ultimi eventi del cs di las vegas abbiamo visto diversi componenti che potrebbero tornarci molto utili per quanto riguarda le configurazioni nell'arco di tutto quanto il 2019 specialmente le schede video di nvidia le rtx 2060 e oggi con questo video voglio darvi un po di configurazioni o meglio un po di proposte per andare appunto a configurare il vostro computer con la prima rtx 2060 in questo video non vi darò una sola configurazione ma bensì qualche alternativa sia per chi vuole avere un processore amd quindi un ryzen di ultima generazione chiaramente aspettando ancora i ryzen 3000 oppure una configurazione con processore intel ma in questo caso il core della build sarà sicuramente la rtx 2060 e allora andiamo a vederla questa 2060 di cui abbiamo già parlato sia in live che per quanto riguarda diciamo il riassunto il video di rassunto del cs del 2019 possiamo scegliere diverse marche per quanto riguarda la customizzazione della scheda video piuttosto che prendere magari una founders noi chiaramente vi andiamo a consigliare questa di msi abbiamo già visto che è una scheda video che ha ben 6 gb di vram e potrà gestire tranquillamente la rtx anche se questa scheda video è vista maggiormente o meglio potrà essere ottimizzata e quindi utilizzata per giocare appunto maggiormente in 1080p farà sicuramente molta fatica se andiamo appunto ad attivare le rtx e farà ancora più fatica se dobbiamo andare a utilizzarla per giochi in 2k piuttosto che in 4k il discorso chiaramente cambia nel momento in cui andiamo appunto a togliere la gestione del ray tracing in questo caso la scheda video si comporta davvero molto 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 bene tanto da essere paragonata a una serie 70 della scorsa generazione abbiamo visto diversi benchmark e in effetti le prestazioni sono davvero molto molto soddisfacenti per lo storage invece in questo caso abbiamo puntato più che altro sulla rapidità per quanto riguarda la nostra build quindi andiamo a consigliare in effetti due tipologie diverse di storage chiaramente sempre in dual drive ovvero sicuramente un nvmi o un ssd e chiaramente lo storage di massa che può essere gestita tranquillamente da un hard disk meccanico il classico da un terabyte per quanto riguarda invece il processore come dicevo all'inizio possiamo avere una doppia scelta possiamo scegliere una md in questo caso vi consigliamo un ryzen 5 2600 oppure una parte diciamo intel con questo i5 8600k ovviamente chi sceglie md deve scendere leggermente a compromessi nel senso che il processore è chiaramente maggiormente dedicato per quanto riguarda la produttività video ma si comporta comunque molto molto bene anche durante l'utilizzo gaming mentre l'i5 come sappiamo benissimo è uno dei migliori processori al momento rapporto qualità prezzo per il gaming soprattutto in full hd ovviamente in base alla scelta che si fa per quanto riguarda il processore deve cambiare anche la scheda madre e in questo caso abbiamo scelto due chipset di fascia abbastanza bassa e il b450 per quanto riguarda md oppure il b360 per quanto riguarda appunto i processori intel ovviamente in base alla scelta che si fa per quanto riguarda il processore deve essere cambiata anche la scheda madre con i vari chipset che possano gestire appunto gli intel piuttosto che gli amd abbiamo scelto per voi questa msi mortar disponibile con entrambi i chipset sia b450 per quanto riguarda processori amd e sia il b360 per quanto riguarda il processore intel ottimo il rapporto qualità prezzo di questa scheda madre ma soprattutto è stato ottimo il lavoro fatto da msi per la gestione dell'overclock per quanto riguarda la scelta del socket am4 quindi la gestione del processore amd purtroppo sappiamo che invece il chipset b360 non può gestire l'overclock per quanto riguarda appunto i processori intel andiamo adesso invece a vedere le ram che possiamo andare a inserire in questa configurazione chiaramente non vi consiglio di inserire meno di 16 gigabyte di ram e soprattutto vi consiglio di prendere delle ram con ben 3000 megahertz perché sappiamo benissimo che sono la frequenza diciamo ottimale per l'utilizzo di processori ryzen ma sarà una frequenza anche buona appunto per l'utilizzo dei processori intel e al momento la differenza di prezzo tra le 3000 megahertz e le 2400 o piuttosto le 2666 megahertz davvero un'inezia quindi chiaramente vi consiglio di spendere qualche soldo in più ma avere delle ram molto molto efficienti con frequenze più alte che possono gestire bene entrambi i processori in questo caso specifico abbiamo scelto delle ram della vengance lpx appunto due banchi da 8 gigabyte con frequenze da ben 3000 megahertz il costo davvero molto basso sono forse le più basse sul mercato con i suoi circa 120 euro e sono davvero un'ottima scelta per configurazioni di questo calibro per alimentare tutto questo bel computerino abbiamo scelto sharkoon con questo vpc da ben 550 watt e certificazione 80 plus bronze sharkoon sappiamo benissimo che è molto molto affidabile soprattutto a un costo abbastanza abbordabile insomma un rapporto qualità prezzo davvero davvero ottimo e quindi spesso e volentieri ci capita di andare a scegliere sharkoon sia per i case ma soprattutto per quanto riguarda appunto gli alimentatori il vattaggio è sicuramente più che sufficiente per gestire tutta la build attuale ma soprattutto degli upgrade futuri anche se in effetti non so come una build del genere debba essere necessariamente upgradata nei prossimi due o tre anni probabilmente potrà essere cambiata la scheda video nel momento in cui lo standard dovesse diventare il 2k piuttosto che il 4k ma sicuramente oggi come oggi 550 watt sono molto più che sufficienti per gestire la maggior parte dei computer uno dei case più venduti per quanto riguarda queste configurazioni è sicuramente il master box 5 della cooler master possiamo sceglierlo in diverse colorazioni ad esempio questa colorazione msi questa grafica che ricorda molto appunto la casa il marchio msi con accostamenti nero e rosso che sono molto accattivanti soprattutto per i gamer ma sicuramente in qualsiasi studio fa sicuramente la sua figura specialmente se appunto i colori predominanti nello studio sono il nero e magari il rosso ovviamente non potrà mancare l'apparatia laterale trasparente che permetterà di sbirciare all'interno quelli che sono i componenti del nostro computer e farà chiaramente il paio con le colorazioni rosse e nere che sono anche il tema principale delle customizzazioni msi per quanto riguarda sia la scheda madre ma anche per quanto riguarda la scheda video i prezzi di questa configurazione oscillano all'incirca tra i 1100 e 1300 euro chiaramente in base al processore che andiamo a scegliere e di conseguenza alla scheda madre ed è sicuramente una ottima configurazione per questa fascia di prezzo chiaramente restando in attesa dei ryzen 3000 che tranno una botta enorme per quanto riguarda appunto il mercato specialmente su questa fascia di prezzo ovviamente ragazzi queste qui non sono altro che delle linee guida o magari dei consigli a seguire per fare poi la vostra configurazione personalizzata quindi vi invitiamo a scrivere qui sotto quelle che sono le vostre configurazioni più o meno sulla stessa fascia di prezzo oppure indicateci delle alternative ai componenti che abbiamo appena visto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per essere sempre notificati ogni volta che esce un video perché qui su witech esce un video al giorno come sempre ragazzi un saluto dal vostro Udini per witech ci vediamo sempre qui con il prossimo video ciao